quello che tutti noi meno sopportiamo è scoprire di essere piccoli di avere dei limiti persino i bambini non lo sopportano di è un bambino tu sei piccolo e vedrai come ti dirà no 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 io sono grande ed è un riflesso del peccato originale della superbia dell'orgoglio mossi innescati dalla menzogna del demonio per la quale se sei piccolo se sei imitato non puoi essere felice che così la tua vita non va bene che così tu stesso non vai bene invece gesù esulta per te per la tua piccolezza per come tu sei perché il padre ha rivelato proprio alle persone come te ai piccoli a quelli che non sanno cosa fare come fare ai neurotici agli ultimi della terra il suo amore perché proprio quando scopri i tuoi limiti sei nella situazione di un bambino quando riceve un regalo è la persona più felice di questo mondo perché sa gustare la gratuità un piccolo uno che non può accampare i diritti uno che non può accampare i meriti è l'unico che veramente gusta gode esulta per l'amore